L'anno scolastico è ormai iniziato, alle prese con i soliti problemi, quarantene, già ci sono sei classi in città in isolamento e servizi come trasporto e mensa. Il prescuale e il servizio trasporti inizieranno il primo ottobre, ma forse il prescuale si riuscirà ad anticipare da lunedì, annuncia l'assessore al diritto allo studio Francesco Bignotti. E qualche polemica a cui non manca mai, perché si creano disagi enormi per i genitori nei primi giorni e non si capisce perché il servizio non riesca mai a partire nel primo giorno di scuola. Per l'assessore il discorso è legato al covid. In accordo con i presidi lo scorso anno, ma ovviamente lo abbiamo ripetuto quest'anno, abbiamo preferito scaglionare l'inizio dei servizi per dare modo agli istituti comprensivi di sedimentare questi orari di ingresso affinché l'orario dei pulmini possa essere modellato rispetto all'orario di ingresso, in modo tale da evitare assembramenti, da evitare un'affluenza al servizio di prescuola massiccia. Per quanto riguarda il servizio di riflessione scolastica, lo scorso anno è partito alle infanzi, il 28 settembre alle primarie, il primo di ottobre. Quest'anno abbiamo anticipato, quindi è partito l'unio di 23, come avete visto, quindi abbiamo anticipato di 8 giorni e 10 giorni rispetto allo scorso anno. Ma al di là di questo qualche problema c'è stato per la riflessione scolastica. Alcuni genitori hanno lamentato il mancato funzionamento dell'app per avere il servizio pur avendo pagato. L'arcano è subito spiegato. Le regole quest'anno sono cambiate, per la verità anche le scuole avevano informato i genitori mandando una circolare perché il comune già lo aveva fatto dal 6 agosto. Entro il 4 settembre i genitori avrebbero dovuto dare conferma di iscrizione dei figli su un portale, dimostrando di essere in regola con i pagamenti. Un'operazione resa necessaria per digitalizzare i sistemi ma anche per stanare i morosi. Ci sono persone in debito con il comune per la mensa. Ben 190 mila euro si erano accumulati. Con questo sistema il comune ne ha recuperati 130 mila. L'assessore però invita tutti coloro che devono regolarizzare la loro posizione a recarsi negli uffici del diritto allo studio. Un filone che riguarda l'amorosità. Quindi l'app se ci sono utenti con un'amorosità superiore a 12 euro per i servizi di riflessione non fa andare avanti. Quindi bisogna prima risarcire questo debito e poi si può andare avanti nell'iscrizione. Poi c'è un filone di utenti che non hanno effettuato proprio l'iscrizione nonostante magari non abbiano l'amorosità. E annuncio che ovviamente questa cosa del debito non può passare così. Quindi siccome adesso abbiamo recuperato più dell'80% circa di debito anche nel corso dell'anno scolastico manderemo ovviamente gli avvisi alle scuole e a tutte le famiglie. Quando ci sarà un debito che adesso vedremo quale sarà la soglia minima, manderemo un avviso, avviseremo che deve essere saldato entro un totto di giorni altrimenti il servizio deve essere sospeso.